Siamo con l'annella della Torraccia, oggi sconfitta pesante. Sì, purtroppo ci aspettavamo di fare una partita migliore e di giocarcela di più, invece abbiamo sofferto i primi minuti e siamo riusciti a recuperare bene il risultato. Per quanto riguarda la prossima partita bisogna rialzare la testa nel tal caso? Sì, avremo un'infrasettimanale martedì contro il CCP che è più o meno a nostro livello, penso sia uno scontro diretto, quindi cercheremo adesso di focalizzarci su quello e dobbiamo cercare di rialzarci un po' dopo questi brutti risultati. A Terga, man of the match della serata con quattro gol importanti per portare a casa i risultati. Sì, siamo tornate, è la giusta concentrazione, abbiamo fatto una bella partita e adesso ci aspetterà un'altra finale martedì contro la Connect. Soddisfatti, stiamo facendo bene. Ma in difficoltà in questa partita è stato il vero punto di forza per questa sera? Sì, siamo partite subito concentrate, abbiamo coperto bene, abbiamo fatto il gioco che il mister ci ha chiesto e ha portato un ottimo risultato. Siamo tutte lavorando benissimo, quindi continuiamo così. Grazie. Grazie. Grazie.